ciao a tutti amici dello svapo eccoli qua i miei tre bambini li ho messi qui tutti e tre vicini perché oggi ho deciso di fare un video per gli utenti che hanno acquistato da poco o pensano di acquistare un provari perché dico acquistato da poco perché sicuramente gli utenti che hanno già i provari da un po non dico in questo video cose che non sapranno sicuramente insomma cose abbastanza scontate però per gli utenti che si approcciano magari al provari è sempre meglio dare un consiglio in più per tenere in forma questo fantastico gioiello allora parliamo di manutenzione e come prendersi cura del provare una cosa che consiglio prima di tutto a chi sta per acquistare un provare io consiglio questo colore cioè lo stainless non cromato è molto bello questo però io per tenerlo così veramente lo utilizzo poco e esclusivamente solo a casa perché a lungo andare questo si trova si vedranno sicuramente se lo portate in giro si vedranno sicuramente dei micro graffietti inevitabile e poi va bene le ditate per chi è maniaco dell'estetica su queste cose come me si vedono le ditate mentre invece questo colore qua dopo quasi due anni io svapo da quasi due anni quindi sicuramente ci ho fatto un anno e mezzo con questo che non l'ho comprato subito questa è ancora la versione che aveva la scritta non incavata questa è la versione 2.5 questa versione 2 e aveva la scritta dipinta insomma che è la prima cosa che si consuma hanno risolto questo problema importante io consiglio questo perché guardate dopo un anno e mezzo di utilizzo quotidiano tutti i giorni utilizzato questo provare dappertutto l'ho portato anche il mare in spiaggia lavoro in macchina ovunque è perfetto mentre invece con quelli colorati nero bianco rosso li ho visti da altri utenti si formano dei graffi in via la vernice questo colore qua è quello che consiglio perché sarà sempre nuovo ok allora come prendersi cura del provare i due cazzate due cazzate tenere puliti i pin e poi pensare prevenire il discorso del tastino e basta allora vado a spiegare come tenete pulito il pin centrale che andrà a sporcarsi semplicemente mettendo una goccia sopra del vostro liquid oppure imbevete un cotton fioc anche col disinfettante alcol del liquid io ho visto che pulisce bene comunque se volete disinfettante alcol bagnate un po' il cotton fioc e pulite bene il pin anche la filettatura lo pulite bene e spesso noterete che magari anche facendo questo lavoro non rimarrà comunque rimarranno dei detriti allora io posso consigliare per pulirlo veramente farlo tornare nuovo senza neanche un puntino di sporco quando è ancora umido potete provare a passare ma veramente delicatamente perché se no lo graffiate non succede niente farà sempre contatto ovviamente ma lo graffiate quindi esteticamente possono girare un po' le palle passate un pochettino la punta di una forbicina delle unghie o un cacciavitino tratta piano piano grattate ma fate una cosa molto delicata perché questo materiale è più delicato quel di quello che possa sembrare se grattate con la punta delle forbici e poi andate a guardare ve lo trovate tutto rigato insomma quindi fate una cosa proprio delicata di fino io mi aiuto a volte con una lente di ingrandimento quindi ricapitolando tenere pulito questo pin centrale che quello è la manutenzione che farete più spesso poi all'interno c'è un altro pin che va a far contatto col positivo della batteria anche quello infilato un cotton fioc e lo pulite state attenti cotton fioc se volete inumidirlo un pochettino che sia appena appena inumidito cioè non inzuppatelo in modo che non vi sgoccioli dentro liquido perché poi potete danneggiare il circuito o bene che possa capitare potrebbe cadere qualche gocciolina ok male che vada qualche gocciolina all'interno poi si vede dal display l'ultima cosa per prevenire il discorso che a lungo andare il circuito si muove quindi il tastino scende io ho fatto un video quindi non sto a dilungarmi più di tanto su questo video andatevelo a guardare se vi interessa e lo consiglio perché il titolo del video si chiama provare il tasto col tasto come nuovo a lungo andare il provare a due pezzettini di silicone si smontano e inizia ad ondolare il circuito e il tastino si muove con una piccola guarnizione dei rubinetti tagliandola a metà nella giusta misura lo inserite e andate a prevenire questo discorso o se è già capitato a correggere questo discorso qua il tastino ritornerà come nuovo datevelo a vedere lo consiglio basta tutto qui quindi pin e tastino ovviamente questo provare qua se cade difficilmente si rompe l'unica cosa che vi si può ammaccare sono i bordi del cap e anche qua questo discorso qua cadendo non può succedere niente se non o si sposta il circuito si graffia prendetevi cura di questo fantastico gioiello ciao a tutti i ragazzi stai svaco ciao